Sono Gian Paolo Tozzi, astronomo all'Osservatorio d'Arcetri e qui con l'Osservatorio d'Arcetri Siamo qui con questo planetario portatile dove vengono mostrate le costellazioni delle stelle e le costellazioni in particolare in relazione con la mitologia greca, la mitologia occidentale che ci è stata tramandata e la mitologia hindù e la mitologia cinese e dentro vengono fatte delle lezioni per i bambini e anche per gli adulti con spiegazioni delle costellazioni, come riconoscere le costellazioni nelle varie mitologia No, a via che è cheap, cheap, cheap A via che è cheap... No, a via che è cheap Ci hanno raccontato che si può vedere l'orsa minore e che se dalla coda dell'orsa minore fai cinque salti arrivi fino all'orsa maggiore.